Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News e benvenuti all'edizione Pavia, i titoli. Musica Due casi di violenza contro le donne, una per fortuna rimasta solo tentata. Hanno caratterizzato quella che doveva essere la prima domenica, l'infona gialla che invece si è avuto questi tristi risvolti di cronaca. Partiamo da Magherno per un episodio avvenuto ieri sera. Picchia la compagna al termine di un litigio e una volta arrivati i carabinieri, aggredisce pure loro. Il protagonista dell'ennesima storia di violenza sulle donne è un 26enne di Magherno, arrestato per maltrattamenti, lesioni, oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. La vicenda risale alla tarda serata di domenica e il ragazzo e la sua convivente, una 22enne, cominciano a discutere. A quanto pare la lite nasce per motivi sentimentali e il 26enne in pochi minuti perde completamente la testa. Comincia a colpire la giovane con calci e pugni senza fermarsi. Alcuni vicini però sentono le urla e chiamano il 112. Poco dopo, alla porta dell'abitazione, si presentano i carabinieri della stazione di Villanterio che cercano di riportare la calma. Nonostante la presenza degli uomini dell'arma, il 26enne continua a mantenere un atteggiamento minaccioso e violento e a quel punto i militari sono costretti ad ammanettarlo. La 22enne è stata poi visitata al pronto soccorso del San Matteo, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico, diverse escoriazioni ed ecchimosi, la sospetta frattura di uno zigomo e una contusione al ginocchio sinistro. Per lei la prognosi di 30 giorni. Il 26enne, dopo gli accertamenti di rito, è stato invece trasferito al carcere di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un pregiudicato, 32enne di San Cipriano, è stato poi anche arrestato dai carabinieri in seguito a momenti piuttosto convulsi che si sono vissuti nel primo pomeriggio di ieri a Broni, al Bar Italia. L'uomo in evidente stato di alterazione era venuto alle mani con un altro cliente del bar. Nel locale si trovavano anche l'ex moglie del pregiudicato, che era in compagnia del padre. Entrambi sono stati minacciati, tanto che poi qualcuno ha chiamato i carabinieri. All'arrivo dei militari, il 32enne ha tentato di scagliarsi contro la moglie. I carabinieri si sono frapposti, venendo a loro volta spintonati e poi colpiti con calci e pugni dall'uomo. Inevitabile, una volta calmati gli animi, l'arresto dell'aggressore, che dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale e lesioni dolose. Vediamo la pagina dedicata al coronavirus con due questioni. In primo piano, la vedremo tra poco, riguarda il carcere di Digevano. L'altra è un bilancio molto triste, quello dei contagi nelle due case di riposo di Sartirana. È drammatico il bilancio dei contagi avvenuti nelle case di riposo di Sartirana Lomellina. Due strutture distinte a livello di gestione, ma situate nello stesso edificio, la Adelina Nigra e la Buzzoni Nigra. Due case di riposo che erano rimaste indennie al coronavirus per quasi un anno, per finire colpite proprio poche settimane prima dell'arrivo del vaccino. Un centinaio i contagiati tra gli ospiti, una cinquantina tra gli operatori. Proprio dagli operatori sarebbe partito il focolaio, dato che le due strutture erano chiuse alle visite dai primi di marzo 2020. Tante le persone che non ce l'hanno fatta. Nell'ultimo mese, nelle case di riposo di Sartirana, si sono contati 20 morti. Si trattava di persone molto anziane, diversi di loro erano già provati da altre patologie e il loro corpo si è dovuto arrendere all'arrivo del covid. I continui tamponi hanno permesso di scoprire il focolaio precocemente alla fine di dicembre, ma la velocità di diffusione non ha dato scampo, nonostante l'utilizzo di tutte le precauzioni del caso. Ci sono ancora 15 ospiti positivi in via di negativizzazione, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti. Andrà valutata con attenzione la questione vaccini. Come in tutte le RSA, oggetto di focolai, anche la Adelina Nigra e la Buzzoni Nigra erano state escluse dalle somministrazioni. L'eventualità allo studio sarebbe quella di effettuare dei test sierologici allo scopo di somministrare il vaccino solo a chi ha una bassa carica di anticorpi, evitando l'inoculazione per chi ha sviluppato la malattia in maniera forte e il cui organismo potrebbe reagire in modo indesiderato. Un'altra questione, come dicevamo, riguarda il carcere di Vigevano, che ha detta dei sindacati, nell'ultimo mese si è trasformato in uno dei più grandi focolai covid d'Italia, per lo meno per quanto riguarda i carceri. Avviare il prima possibile un piano di vaccinazione anti-covid per il personale della polizia penitenziaria e per i detenuti del carcere di Vigevano. È quanto chiesto dal segretario generale del sindacato del corpo di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, vista la situazione all'interno della struttura. Nell'ultimo mese, infatti, sono stati 103 casi di positività al virus. Quello di Vigevano, spiega Di Giacomo, è uno dei cluster più importanti registrati in quel periodo in tutte le carceri italiane. È necessario che situazioni del genere non si ripetano altrove. L'allarme nel carcere della città ducale era scattato il 12 gennaio. I positivi erano stati trasferiti nelle strutture di San Vittore, a Milano e a Bollate. Successivamente, i malati che si sono negativizzati sono stati trasferiti nuovamente a Vigevano. Ad oggi, nella sezione maschile sono rimasti 166 detenuti e, in quella femminile, una novantina di recluse. Sono una decina, invece, gli agenti di polizia penitenziaria contagiati. Complessivamente, nelle carceri italiane, i positivi sono più di mille, tra detenuti e membri del personale penitenziario. Sono una quarantina, quelli attualmente ricoverati in ospedale. Il bollettino dei contagi da Covid in Lombardia, il bollettino ufficiale della regione, che oggi, diciamo subito, non è granché significativo, in quanto il numero dei tamponi effettuati è molto basso. Sono 895 le nuove diagnosi, pari al 6,4% sui tamponi effettuati, ma, appunto, numeri che vanno rivalutati, poi, andranno rivalutati nei prossimi giorni. 21, i casi riscontrati, i nuovi casi riscontrati in provincia di Pavia. Vediamo che c'è un leggero aumento del numero dei ricoverati, più 24, e un leggero parimenti aumento delle terapie intensive, più 4. I decessi nelle ultime 24 ore per coronavirus in Lombardia sono stati 51. Per quanto riguarda le vaccinazioni, vedete che siamo al 91,1% in Lombardia delle somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. Va specificato che non sono stati contabilizzati ancora gli ultimi arrivi, come ad esempio quelli di AstraZeneca, che non sono ancora stati consegnati alle regioni. Quindi, probabilmente, ci sarà qualcosa di nuovo a breve in questi numeri. Vedete che in Italia, ormai, siamo ben oltre 2,5 milioni di somministrazioni. E un bar di trovo è stato chiuso per 5 giorni dai carabinieri, che avevano trovato ben 14 persone nel locale a consumare al tavolo alle 18.30, cioè mezz'ora dopo l'orario disposto per la chiusura, secondo le normative anti-Covid vigenti. Sia il titolare che i 14 clienti si sono visti combinare una multa da 400 euro a testa. Siamo ancora una volta a raccontarvi di discariche abusive, ma fortunatamente ancora una volta vi dobbiamo raccontare di persone che sono state sorprese, e identificate mentre sporcavano. Una vicenda, quest'ultima, che arriva da Castelletto di Branduzzo. Il Comune si costituirà parte civile contro i presunti autori della discarica abusiva di Valle Botta, una frazione di Castelletto di Branduzzo, dove nei giorni scorsi tre uomini sono stati fermati e denunciati dai carabinieri con l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti. Le persone denunciate sono un 71enne di Bressana, un 59enne di Fabrica Curone, nell'Alessandrino, e un 35enne di Bastida Pancarana. Ad essere colto con le mani nel sacco dal sindaco, che poi ha allertato i carabinieri, è stato il più anziano dei tre, che stava scaricando macerie a bordo di una ruspa di sua proprietà. Questo è un terreno di proprietà comunale, che naturalmente erano anni che io cercavo di sopprendere, questi che naturalmente, persone incivili, che scaricavano di tutto di più. L'area di Vallebotta ora dovrà essere bonificata, ma prima ancora sarà necessario capire esattamente se, come si sospetta, sotto terra ci siano quantità di rifiuti, tra cui anche materiali pericolosi come il cemento amianto. Per questo il Comune sarà parte civile nel procedimento giudiziario che scaturirà al termine delle indagini. Oltre al fatto di scaricare delle macerie, come si può vedere, hanno tagliato degli alberi. Poi faremo periziare il tutto, cioè, diciamo, a chi ha le competenze per poterci dire e quantificare il danno. Non è solo qui, è un'altra zona dove naturalmente continuano a buttarli dai divani. Ultimamente ci sono dovuti venire dei pompieri a spegnere il fuoco perché poi gli hanno dato fuoco. Un'altra discarica. Un'altra discarica, però lì di mobili, di tutto di più, insomma, frigoriferi. Abbiamo l'area del magazzino comunale che abbiamo recuperato una marea di frigoriferi. Eppure io il servizio lo do gratuito per chi naturalmente vuole smaltire questi prodotti. Nei pressi della frazione Branduzzo, nei giorni scorsi, si è reso necessario infatti l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio molto probabilmente doloso divampato in un'area in cui erano stati scaricati rifiuti di vario genere negli ultimi tempi. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per intracciare gli autori della discarica e potenzialmente del rogo. In tema dei rifiuti si declina sotto innumerevoli aspetti. C'è quello delle discariche abusive, ma c'è anche quello delle operazioni di raccolta su quale è in corso. Ve ne stiamo raccontando da giorni un'avvertenza a Pavia dopo la decisione di ASM di far da sé per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti in centro, rinunciando all'appalto con la Sangalli e quindi ci sarebbero dei posti di lavoro a rischio. Il caso approderà in consiglio comunale. Un consiglio comunale aperto dedicato alla situazione dei lavoratori dell'impresa Sangalli. A chiederlo con una comunicazione ufficiale al presidente del consiglio comunale di Pavia Nicola Agniutta sono i consiglieri dei gruppi di opposizione al Mezza Barba, Partito Democratico, Pavia Colori, Cittadini per De Paoli, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Una richiesta figlia della situazione che si è venuta a creare per i dipendenti della Sangalli che in seguito all'internalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di ASM rischiano di perdere il posto di lavoro. 26 le persone coinvolte. I tentativi di mediazione tra i rappresentanti dei lavoratori vertici di Via Donegani non hanno dato gli esiti sperati, sia di fronte al prefetto lo scorso 3 febbraio che presso la sede di ASM il giorno successivo. È un momento delicato per i dipendenti e di forte preoccupazione dovuta all'assenza di prospettive future riguardo alla loro situazione contrattuale. Per questo motivo tutti i consiglieri di centrosinistra hanno chiesto di affrontare la questione con una seduta ad hoc al Mezza Barba a cui possano partecipare sindacati dei lavoratori vertici di ASM per discuterne in piena trasparenza davanti alla città. Le ricadute lavorative sociali e le eventuali prospettive di garanzie occupazionali per i dipendenti che negli ultimi anni hanno collaborato in modo strumentale con ASM rappresentano allo stato attuale. Dei grossi punti interrogativi. A proposito di lavoro, ma di lavoro più in generale, c'è un intervento del segretario provinciale della UIL Carlo Barbieri che mette in guardia rispetto a che cosa succederà dopo la pandemia e che cosa succederà nei prossimi mesi con un recovery fund tutto da programmare e la necessità di iniziative concrete. Con la situazione sanitaria che lentamente migliora, in Lombardia l'attenzione dei sindacati è ora più che mai rivolta al tema lavoro. I dati sulla Cassa Integrazione sono in crescita e c'è preoccupazione per l'avvicinarsi della scadenza del blocco dei licenziamenti prevista per il 31 di marzo che rischia di trasformarsi in una bomba sociale. In provincia di Pavia la situazione è preoccupante, spiega Carlo Barbieri della UIL. Ora bisogna trovare soluzioni condivise per uscire dalla crisi. Ma purtroppo i dati che ci arrivano sono dati che non ci rassicurano per niente, anzi ci preoccupano. Il dato della Cassa Integrazione è molto alto, le previsioni rispetto a potenziali perditi di posti di lavoro non sono positive. Noi riteniamo che a questo punto, al di là che la nostra provincia era già in crisi prima della pandemia e sta pagando un ulteriore prezzo rispetto all'andamento generale, noi chiediamo che a questo punto ci sia davvero un concorso di forze che si debbano mettere insieme, partendo però da un dato fondamentale che è quello che visione vogliamo dare del nostro territorio. Perché è da questo che poi... perché fare altri tavoli e fare l'elenco delle priorità che sono tantissime, poi alla fine rimangono delle priorità e purtroppo non vediamo nessun tipo di sbocco, penso che non serva più a nessuno. CGL, Cisle e Will hanno presentato un piano a livello regionale che tocchi i temi della sanità, della casa, delle politiche sociali e dei trasporti, oltre che del lavoro. I problemi del nostro territorio, sottolinea Barbieri, sono ormai noti a tutti. È fondamentale quindi proporre progetti concreti per intercettare i fondi che verranno stanziati dall'Unione Europea. Serve davvero un impegno di tutti per il nostro territorio, per far sì che anche la nostra provincia, la nostra realtà, possa essere messa in campo, metta in campo delle soluzioni. Ormai servono le soluzioni e serve poi che i progetti devono essere seguiti e realizzati, perché se no rimangono sempre dei sogni che purtroppo a Pavia non si realizzano. Ultimo ragionamento è che poi il nostro territorio non debba essere tagliato fuori rispetto alla possibilità poi di utilizzo dei fondi, dei fondi europei. Noi sappiamo benissimo che questa è una situazione che sarà irripetibile, perciò noi o ci agganciamo e rilanciamo il territorio con una possibile ripresa e per farlo dobbiamo sederci al tavolo dove poi vengono stabilite le priorità e vengono poi stabilite i capitoli di spesa. Se siamo all'interno di questo tavolo potremmo dire la nostra, se non siamo all'interno di questo tavolo e oppure sediamo e non abbiamo le idee da portare avanti, penso che sarà un altro fallimento per il nostro territorio. E guarda al futuro con al fiducia il club del buttafuoco storico che compie in questi giorni 25 anni, ci saranno dei grandi festeggiamenti domani, una trasmissione di prima serata proprio qui su Milano Pavia TV con Andrea Pucci e il club del buttafuoco storico ha un nuovo presidente e lo abbiamo intervistato. Un quarto di secolo, tanto tempo è trascorso da quando un gruppo di viticoltori delle prime colline pavesi ha deciso di lanciare una sfida destinata a lasciare il segno nella viticoltura dell'oltrepo e in netta contrapposizione con l'allora imperante modello incentrato sulla quantità del prodotto piuttosto che sulla ricerca di distintività e qualità. Il buttafuoco storico è un vino territoriale per eccellenza, visto che si può produrre soltanto in un piccolo territorio e con un disciplinare molto rigido. Il club che ne raccoglie i produttori ha compiuto 25 anni ed ha scelto un nuovo presidente, Davide Calvi, che nel prossimo triennio avrà il compito di traghettare l'associazione fuori dalla crisi dettata dalla pandemia e di scrivere una pagina nuova per tutto il territorio. Noi siamo in questi 25 anni arrivati ad avere una qualità altissima dei nostri prodotti e con le giuste differenze dovute dalle vigne che sono l'unità fondamentale del nostro buttafuoco storico e quindi ogni vigna è unica e diversa. L'oreca è naturalmente rimasta bloccata per quasi tutto 2020 e è un grandissimo danno per tutte le nostre produzioni, soprattutto per quelle produzioni come il buttafuoco storico di alta gamma che appunto vivono nelle enoteche, vivono nei ristoranti. Noi siamo molto fiduciosi e siamo vicini agli amici ristoratori che hanno sofferto con noi e ancora forse anche più di noi il momento drammatico. Tra le sfide da combattere forse la più importante è quella di riuscire a garantire la giusta remunerazione per gli agricoltori che sono anche custodi del territorio in modo da bloccare il fenomeno dell'abbandono dei vigneti che provoca danni all'economia locale, all'ambiente e anche indirettamente alle infrastrutture a seguito di frane e smottamenti. Il fenomeno dell'abbandono, soprattutto nella nostra piccola parte di Oltrepoca è la Sperone di Stradella, quindi le zone molto impervie di Castana, Canneto, Cigognola, Pietra dei Giorgi, la viticoltura è difficile, è impegnativa. Con i prezzi delle uve che ci sono oggi sul mercato per le cantine sociali, per la produzione di massa, non si riesce in questi territori ad avere la giusta remuneratività. Quindi tanti agricoltori, soprattutto i più anziani, soprattutto gli osbisti smettono e questo è un danno sociale prima di tutto. È un danno per il territorio e anche per chi lo vive perché provoca frane, smottamenti, imboschimenti e per i produttori ancora di più perché è un focolaio per le malattie. Quindi l'unica strada per valorizzare questa parte di territorio sono le produzioni di altissima qualità e di altissima gamma come il buttafuoco storico. Quindi il nostro impegno è un impegno territoriale. Torniamo a Pavia, continuano le proteste contro la decisione del Comune di cedere a privati e la gestione di alcuni asili. Per il 24 febbraio è stata indetta una giornata di mobilitazione. Non accenna a placarsi a Pavia la polemica sulla privatizzazione degli asili. Dopo le manifestazioni di Piazza della Vittoria e davanti a Palazzo Mezzabarba i genitori torneranno a protestare il prossimo 24 febbraio in concomitanza con la giornata di sciopero indetta da CGL, CISL e UIL. Un sit-in mantenendo, come di consueto, le distanze di sicurezza. Su tempi e modalità della protesta si stanno ultimando gli ultimi preparativi. Certo è che la decisione di esternalizzare la scuola materna Muzio e l'asilo nido Collodi non è andata giù a genitori ed insegnanti. Il progetto, come precisato a più riprese dall'amministrazione del Mezzabarba, sarà in via sperimentale e prevede la ricollocazione in altre strutture gestite dal Comune di dieci dipendenti, attualmente nel nido e nella materna. Secondo quanto riferito dai sindacati, lo sciopero dovrebbe portare alla partecipazione della quasi totalità del personale. In piazza, accanto agli insegnanti, ci saranno anche le famiglie. Il timore è che questa sperimentazione, avviata dal Comune, possa portare nel breve periodo ad un affidamento a privati di tutte le strutture al momento sotto la gestione diretta dell'amministrazione del Mezzabarba. I sindacati, in particolare, lamentano la volontà del Comune di Pavia di tagliare i costi del settore dell'educazione per andare a investire in termini di assunzioni in altri settori. Difficile però che questa nuova protesta possa far cambiare linea a sindaco e giunta. Un nuovo passo avanti in Regione per Broni per l'ottenimento della definizione dell'intero territorio comunale come sito di interesse nazionale per la bonifica dall'amianto. Tutto il Comune di Broni si è incluso nel sito nazionale Fibronit. La richiesta, approvata nel corso dell'ultima giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo, è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente che ora dovrà dare il via libera definitivo alla cosiddetta riperimetrazione. Si tratta, come dice il termine stesso, di ridefinire il perimetro del sito di interesse nazionale estendendolo a tutto il territorio del Comune e non, come è attualmente, solo ad alcune porzioni di territorio come l'ex fabbrica di cemento amianto, ovviamente, e altri tre edifici pubblici, ovvero le ex scuole elementari di Via Gramsci, del liceo adiacente e della palazzina ex Avis all'interno del vecchio ospedale Arnaboldi dove, ad esclusione del liceo ancora in uso, sono iniziate in questi giorni le bonifiche. La richiesta era stata già avviata a luglio del 2019 e comprendeva anche il Comune Limitrofo di Stradella, ma lo scorso autunno l'amministrazione stradellina ha comunicato di non voler partecipare sostenendo in sostanza che stare dentro il sito nazionale avrebbe comportato normative troppo stringenti sui controlli ambientali in ambito edilizio a fronte di fondi statali incerti e complessi da ottenere. Nel frattempo, entrambe le amministrazioni hanno comunque stanziato 300.000 euro per accelerare le bonifiche nelle proprietà private. Lavori in vista per i ponte inchiatte di Bereguardo servono delle manutenzioni straordinarie. Un intervento da 100.000 euro per sistemare sia l'impalcato che la passerella pedonale. Partiranno in primavera i lavori di restyling del ponte di Barche di Bereguardo, un cantiere atteso da tempo viste le condizioni in cui versa la struttura. Sulle assi del ponte sono spuntate infatti diverse buche e alcuni punti della passerella pedonale sono danneggiati. La provincia di Pavia ha trovato le risorse per intervenire grazie all'ultima variazione di bilancio. Negli ultimi mesi erano stati effettuati solo piccoli lavori di manutenzione ordinaria, ma con questo nuovo intervento dovrebbero venire sistemati i problemi più grossi. Il progetto prevede il rifacimento di alcune parti della carreggiata che si trova sopra la chiatta numero 15 e la sistemazione del mantoligno di tutto il marciapiede pedonale. Se le procedure burocratiche dovessero venire completate in tempi rapidi, il cantiere potrebbe aprire già a fine marzo. Nella zona del ponte di Barche stanno proseguendo anche i lavori per deviare il corso del Ticino e riaprire la Lanca che si trova in località tenuta a occhio. Un intervento da 2 milioni e mezzo di euro finanziato da Regione, Provincia, Aipo e Parco del Ticino che servirà a pulire una parte dell'alveo del fiume e a spostare circa 50.000 metri cubi di ghiaia per consentire al ponte di tornare a galleggiare. In vista della giornata del ricordo per le vittime delle foibe la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Paola Chiesa ha regalato alle scuole di Pavia un fumetto in cui si racconta la storia di Norma Cossetto. Una coppia di foibe rossa da donare a tutte le scuole medie e superiori del capoluogo è l'iniziativa portata avanti dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Paola Chiesa in vista del giorno del ricordo fissato per il prossimo 10 febbraio una ricorrenza con cui si vuole tenere viva la storia di Norma Cossetto la studentessa di origine istriana barbaramente torturata ed uccisa nella foibe di Villa Surani è doveroso, ha sottolineato il consigliere comunale chiesa, far conoscere alle nuove generazioni questa triste pagina della nostra storia proprio in occasione del prossimo 10 febbraio giorno del ricordo ho deciso di donare foibe rossa il fumetto che parla della storia di Norma Cossetto a tutte le scuole medie e superiori della città di Pavia un dono spontaneo un dono che viene davvero col cuore il fumetto è stato presentato un anno fa lo scorso 10 febbraio in una sala del consiglio davvero gremita Norma Cossetto, classe 1920 dopo essere stata sequestrata ripetutamente torturata, violentata è stata gettata ancora a vivere una foiba dai partigiani comunisti slavi la sua colpa? Essere italiana Norma è simbolo di una tragedia una tragedia per troppi anni colpevolmente taciuta e nascosta dalla politica e dalla storia ma la storia di Norma Cossetto è una storia di frontiere è una storia di confine è una storia che pare italiano è una storia che tutti i nostri studenti devono conoscere e approfondire non solo la consigna del fumetto nelle scuole del capoluogo grazie ad un ordine del giorno della stessa Paola Chiesa il comune di Pavia ha deciso di intitolare una via alla memoria di Norma Cossetto iniziative che già in passato avevano fatto storcere il naso a qualche consigliere comunale di opposizione soprattutto lo scorso anno la mostra dedicata proprio a Norma Cossetto all'ingresso di Palazzo Mezza Barba polemiche attese anche in vista del prossimo 10 febbraio me li aspetto, me li aspetto perché ci sono ancora purtroppo tanti negazionisti ma la verità non può essere infoibata il prossimo 10 febbraio presenterò un nuovo volume intitolato proprio Verità Infoibate a cura di Biloslavo una firma di punta del giornale Matteo Carnieletto con la prefazione di Toni Capuozzo sì, mi aspetto le polemiche però ripeto la verità non può essere infoibata è stata taciuta per troppi, per troppi anni ha contattato già le scuole c'è qualche preside che sia opposto qualche insegnante per il momento ho avuto solo ringraziamenti dal dirigente dai dirigenti scolastici io insieme al libro ho legato una lettera in cui ho spiegato il perché di questa donazione per il momento solo ringraziamenti una bella notizia di sport a distanza di un anno dall'ottenimento del titolo nazionale la vigevanese Chiara Melon si conferma ai vertici italiani della velocità nel fine settimana si sono svolti i campionati nazionali indoor della categoria junior promesse ad Ancona Chiara Melon ha ottenuto l'argento nei 60 metri cedendo solo a Vittoria Fontana 7.44 il tempo di Melon nella finale dopo aver quasi eguagliato il record personale in batteria con 7.43 l'atleta vigevanese ha poi vinto la staffetta 4 per un giro con la squadra dell'atletica Brescia e con questo è davvero tutto io vi lascio in prima serata al palcoscenico del lunedì arrivederci e buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.